Ciao a tutti da Svideo! Allora, voi seguite questa edizione di X-Factor, quindi X-Factor 2020? Beh, se la seguite e avete visto la seconda live, sapete che i due eliminati della seconda live sono stati Edda Marie e Imanitoba. Volevo appunto parlare di Imanitoba. Voi cosa ne pensate di questa eliminazione? Se secondo voi avreste preferito che li avessero tenuti, che il pubblico li avessero tenuti, che insomma, anche che i giudici li avessero premiati di più, insomma, a un certo punto che fossero restati in gara o pensate che, sì, che va bene così, va bene così la loro eliminazione. Volevo appunto sapere un po' la vostra, il vostro parere, la vostra opinione. Io diciamo quando ho visto questa sfida con Santi, pensavo davvero che sarebbero stati premiati loro rispetto a Santi. in Imanitoba, un gruppo che secondo me poteva fare ancora buone cose in gara e soprattutto grazie ai giudici potevano sperimentare varie cose. Non mi aspettavo di questa eliminazione, ma non me l'aspettavo in sfida con Santi. Non è che non mi aspettavo mai una loro eliminazione. Sto parlando proprio di questa sfida, dato che erano in sfida loro due. Pensavo davvero che fossero più forti e anche più preparati, a mio avviso. Dai, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate voi di questa eliminazione di Imanitoba. Fatemelo sapere. Ciao, dos video! Grazie. Ciao, ciao!